Salve a tutti fratelli di Brattim 1998 e benvenuti in questo nuovo video Sono al nuovo video che parlo di calcio e di tutto quello che succede riguardo al calcio e calciomeccato ora Perché non vorrei parlare delle altre squadre come stanno mesi, tanto assoluto 4-0 da parte nostra E vabbè, volevo parlare di uno scambio, vabbè Intanto vi invito a iscrivervi al canale, lasciare la campanellina, lasciare il mi piace Perché dobbiamo arrivare ai 40 iscritti, manca un iscritto per arrivare ai 40 E vi faccio una sfida Se arriviamo a 50 iscritti Vi porto dentro lo stadio dell'Ansio Io ci sono stato proprio dentro al campo e vi porto a visitare, ci sono i spalti dove si guarda la partita È un po' piccolo di stadio però non vi posso promettere lo stadio del Barcellona Quello raga, vi faccio un'altra sfida, vi faccio due sfide Se arriviamo ai 50 iscritti vi porto a vedere lo stadio dell'Ansio E se raggiungiamo i... è tantissimo per andare allo stadio del... Vabbè, sì, facciamo 50 iscritti Invece se arriviamo ai 45 iscritti vi porto a vedere il mio campo di allenamento Perché noi abbiamo un campo di allenamento E poi abbiamo anche lo stadio dell'Ansio, cioè il Bruschini Che possiamo andare Capito raga? E ok Questo vi volevo dire 50 iscritti, stadio dell'Ansio Ovvio che mi riprenderà mio padre tramite gli spalti O se no... Se sia a tempo O se no ve lo faccio al campo di allenamento che mi riprende il mio padre Che saranno un po' riprese stupide Perché cioè Io mi dovrò allenare Non potrò pensare a vloggare Però Vi può riprendere il campo di allenamento E anche forse lo stadio, vabbè Quindi questo era Ora parliamo di scambi Parliamo di due scambi Tra Milan e Napoli Raga, mi sembra che Il Milan è tentato a prendere Andrea Petagna Con lo scambio di Andrea Conti Proprio Andrea, Andrea Vabbè Andrea Conti Per me è uno scambio bello Però Petagna è molto molto forte Quindi Ci sta facendo bene con il Napoli Quindi non Non sarei tentato a cederlo Con Per un Conti Scambio con un Conti Che non Non sta giocando parecchio Non riesce a trovare spazio Se no ci serve un terzino Destro veloce Come Andrea Conti Però Rimane sempre il sospeso A me piace Andrea Conti A me piace Andrea Petagna Però Cioè Vedremo il Napoli Che deve fare A me è uguale Come scambio O come accetta Comunque Stavo guardando Manca un'altra cosa Di scambi Su OneFootball App del calcio Che vi consiglio Link in descrizione Vabbè Ora un altro scambio Sempre di Milan Parliamo Raga Comunque stavano pensando Sì scambio Conti Però io ho bisogno Di un giocatore Che Ha classe Ha difesa Come Alessio Romagnoli Raga Ve l'ho detto 50 iscritti Vi porto Allo stadio Del Nazio 45 iscritti Vi Vi faccio Vedere il campo Nostro di allenamento E poi un'altra Un'altra sfida Se raggiungiamo Questo Ne raggiungeremo Mai Però rimane sempre Sta sfida Ne raggiungiamo 50.000 like Guarda Lo so che Non li raggiungiamo Anzi Non facciamo di meno Se raggiungiamo I 10 5.000 like Vi porto Allo stadio Faccio Del Barcellona Raga Del Barcellona Prima o poi Vi porterò E ai 5.000 like O anche 5-10.000 like Vi porterò Allo stadio Del Barcellona Anzi Non vi porterò Allo stadio Della Turris O della Turris O del Savoia Anzi Non vi porterò Allo stadio Del Savoia Quando si potrà Quindi rega 5.000 like Vi porto Allo stadio Del Savoia Squadra di Serie D Serie C Ed è molto in alto Invece In Lazio pure E' già tanto Che vi porto Quindi E' bello Sì no Abbassiamo i like Raga Facciamo 100 like E che vi porto Allo stadio Del Savoia E bello ragazzi Allo stadio Allo stadio